Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Archive Podcast, siamo qui in questa non-commentary. Oggi sono qui con delle news, da virgolette, anche se sono un po' più leak, per quanto riguarda quella che forse dovrebbe essere la prossima mappa zombie, che sarebbe Nuketown Zombie. Chi non si ricordasse abbiamo avuto Nuketown Zombie su Black Ops 2, che era una mappa di quelle sopravvivenza, quindi nessuna storia dietro, soltanto i personaggi della Cdc e della Cia che dovranno stare lì a sopravvivere alle ondate di zombie. La mappa, io me la ricordo perché era veramente figa, soprattutto per la meccanica che i perk dovevano cadere casualmente dal cielo, quindi poteva uscirti subito il pack a punch, prima il jug, prima il revive e cose così. Ricordava un pochino comunque città, perché era comunque quell'era, c'era comunque il pack a punch, c'erano zone dove girare anche abbastanza grandi e giravoce da molto tempo che debba esserci anche su Black Ops 4, soprattutto come o secondo DLC o come mappa gratuita per tutti. Quindi da un po' di giorni che su Red gira questa immagine, che non si sa ancora se è un fake oppure no, dove si vede questo ragazzo che dalla lobby multiplayer con un glitch è potuto entrare in questa mappa, che sarebbe la mappa sempre di Nuketown, quella che c'è nel multi, perché la copertina di fondo è sempre la stessa, però c'è scritto zombie classico e c'è una descrizione. La descrizione è molto strana perché è la stessa che c'è di transit in inglese, per cui molti pensavano fosse una cosa fake, però andando a vedere sempre con questa specie di glitch, che non ho ancora ben capito quale sia, tutte le mappe del multi viene comparsa dalla scritta appunto tipo zombie, e viene sempre questa descrizione, quindi comunque sappiamo che questa roba che capita sempre e non è per forza scritta soltanto per creare un'immagine fake. Questa cosa non conferma nulla, ovviamente, perché non vuol dire che la mappa uscirà per forza, però magari se stanno iniziando a inserire qualcosa nel codice del gioco per il futuro, quindi magari questo può essere un placeholder o qualcosa del genere, sappiamo che la mappa zombie potrebbe arrivare tra un po' di tempo. Non si sa tra quanto perché ovviamente quei da 3 ci mettono diversi contenuti nel codice del gioco, molto prima è capitato che qualcosa venga inserito anche settimane e settimane prima dell'uscita di qualcosa, per cui bisogna soltanto aspettare e sperare. Inoltre ce ne sono stati da moltissimo tempo dall'uscita del gioco praticamente, molti che dicevano che dovrebbe esserci un'altra mappa zombie aggiuntiva o gratuita per tutti, quindi fuori dal Black Ops Pass, o comunque all'interno del Black Ops Pass qualcosa di bonus, di contenuto in più. Io sono abbastanza sicuro che dopo il Black Ops Pass ci sarà una Zombie Chronicles 2, come è stato per Black Ops 3, perché è stato il DLC più venduto in assoluto, quindi sicuramente dal punto di vista dei guadagni vorranno farlo, ma anche per darci altre mappe remastered, che saranno penso altre 6 o altre 8. Inoltre tornando un pochino indietro nel tempo, se vi ricordate Call of Nobody Cares, quel QA tester, va allicato tantissimi contenuti, tra quelli c'era il fatto che ci fosse praticamente già pronta la mappa Nuketown Zombie. Ha detto che era praticamente conclusa, ma non sapeva se avrebbero inserito nel gioco in generale, comunque perché ha detto che magari l'avrebbero scattata l'ultimo secondo, o comunque l'avrebbero aggiunta in futuro. Dato che praticamente tutto quello che ha detto questo lì, che si è rivelato vero, io penso che una mappa Nuketown Zombie arriverà prima o poi, non so tra quanto tempo, perché comunque il DLC 1 è uscito da ancora meno di un mese, quindi mi sembra un pochino presto per parlare di altri contenuti, soprattutto di zombie. Però penso che in futuro una mappa come Nuketown farebbe veramente figo, anche se c'è da dire che, come hanno detto molti su Reddit, ci sono state un pochino troppe mappe remastered in questo Black Ops 4, perché abbiamo avuto Blood of the Dead, che era praticamente un remake, stessa cosa classified, anche se è un po' più una remastered che un remake vero e proprio. E quindi molti sperano che non ci sia questa Nuketown, soprattutto come in DLC 2, perché la gente vuole comunque nuove mappe, soprattutto magari per la storia etere, perché l'ultima mappa completamente nuova è stata Gord Crovy, perché Revelations comunque aveva diversi pezzi di mappe precedenti, tra cui Kino, Shangri-La, Verrucht, quindi tantissime cose un pochino già viste, e anche appunto Blood of the Dead, per quanto sia secondo me una bellissima mappa, è comunque un mezzo remake di una mappa che abbiamo già giocato tanti anni fa, per cui molti chiederebbero qualcosa di completamente nuovo, che farebbe comunque sicuramente bene a questo Black Ops 4. Per cui la mia opinione finale è che ci sarà molto probabilmente questa mappa di Nuketown Zombie, ma che uscirà tra un po' di tempo, non so se proprio come DLC 2, o se come mappa aggiuntiva gratuita per tutti, probabilmente ne parleremo tra qualche mese, perché adesso mi sembra un pochino troppo presto. Ditemi ragazzi un pochino cosa pensate di questa faccenda, se sperate che esca questa mappa o se proprio non vi interessa, e se secondo voi come uscirà, se come contenuto gratuito, se come parte del Black Ops Pass, o magari qualche pezzo in più, non dico per forza a pagamento, però comunque fuori dalla parte del Season Pass. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento, a iscrivervi al canale, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un abbraccio, alla!